video di prova di video poker una homebrew per sega master system in realtà questa volta ragazzi non è una vera prova perché io non sono capace di giocare a poker non conosco le regole quindi purtroppo non sono neanche in grado di dirvi se qui le regole sono state rispettate se le partite sono verosimili oppure se è facile o difficile ho comunque realizzato questo video e se siete interessati in descrizione trovate il link per scaricare video poker se siete interessati ad hack mod homebrew e demo per sega master system vi invito a curiosare tra la playlist dedicata ad essi presente sul mio canale il video dura circa due minuti e finirà così improvvisamente anche perché io non so nemmeno a che punto della partita mi trovo vi ringrazio per la visione grazie a tutti grazie a tutti